Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del Ferrino Ultimate da 35 più 5 litri, ovvero lo zaino d'alpinismo impermeabile di casa Ferrino. Adesso insieme ne vediamo, pregi e ripetti, all'interno della recensione completa. Iniziamo, come al solito, dallo schienale di questo Ultimate. In questo caso troviamo la classica tecnologia di Ferrino, la Hollow Back System, ovvero troviamo uno zaino che ha dei canali da reazione che va a far uscire l'aria calda in modo tale da sudare meno. È uno zaino che comunque va a diretto contatto con la schiena e questo gli garantisce un'ottima stabilità. Devo dire che davvero a livello di stabilità è uno zaino molto molto stabile, anche con corda, piccolze eccetera, molto stabile, ma anche a livello di traspirabilità mi ha sorpreso, perché comunque pur essendo uno zaino d'alpinismo è veramente molto traspirante per la sua gamma. A livello di fascia lombare invece, innanzitutto è removibile ed è facilissimo staccarla perché basta tirare che c'è un velcro che si stacca. La fascia lombare poi è costituita da una taschina sulla parte di destra dove riporre qualche oggetto e nella parte di sinistra invece abbiamo un anello porta materiale. La parte anteriore infine è chiusa da una classica clip da andare a richiudere, che anche a pieno carico non ha nessun problema. Per quanto riguarda il carico da portare con questo zaino io starei massimo sui 10 extremis 12 kg, non di più, perché comunque è uno zaino sempre da 35 litri. In generale comunque devo dire che tutta la parte anteriore dello zaino, dello schienale, è fatta estremamente bene. Ottimi materiali, ottima reazione, davvero devo dire, da questo punto di vista Ferrino ha sempre delle ottime tecnologie. E infine parliamo anche degli spallacci, abbastanza stretti di sezione ma molto morbidi, fanno un ottimo lavoro quando siamo a pieno carico e hanno naturalmente anche il cordino da passare sul petto per andare sia a scaricare un po' di peso che anche all'interno c'è il fischietto per chiedere aiuto in caso di necessità. Girato lo zaino continuiamo a parlare della parte posteriore di questo Ultimate, iniziando dai lati. Vi preannuncio che i lati sono simmetrici, quindi ne vediamo solamente uno. Sui lati troviamo semplicemente due cinghie. Una inferiore che è chiusa, non è apribile ed ha anche poco materiale, nel senso che non è nemmeno regolabile. E una invece superiore, apribile, regolabile, che ci serve anche per andare ad agganciare la corda che poi andiamo a vedere successivamente. Sulla parte laterale, come vi dicevo, possiamo portare una corda, possiamo portare degli sci, possiamo portare dei matrassini, comunque degli oggetti abbastanza anche lunghi, senza nessun problema. Non troviamo nessun tipo di tasche, ma questo è classico di uno zaino d'alpinismo. Nella parte posteriore, vera e propria, invece, troviamo innanzitutto la possibilità di andare a fissare due piccozze con i vari agganci, oppure anche una piccozza, un bastoncino, come vogliamo. Abbiamo la possibilità, tramite delle cinghie aggiuntive date in dotazione, di poter portare degli sci a taglio, delle ciaspole, o anche qua dei ramponi, comunque possiamo portare un po' di accessori nella parte esterna. E poi, in generale, non troviamo nient'altro. È abbastanza semplice come zaino. Abbiamo dei piccoli passanti per poter magari agganciare dei moschettoni per portare del materiale aggiuntivo. E se poi volessimo portare un casco, c'è comunque la possibilità di utilizzare un Emmet Holder, che però non è dato in dotazione con lo zaino. Per quanto riguarda la parte superiore della chiusura, questa è Roll Top. Qui abbiamo anche i 5 litri in più garantiti da questo tipo di zaino. La chiusura superiore, poi, è fatta da una cerniera IKK impermeabile. E che dire, devo dire che è un'ottima chiusura, non ho avuto nessun tipo di problema. Anche perché, se poi dovessimo andare a togliere il cappuccio, questa chiusura, essendo anche impermeabile, ci dà modo che l'acqua non entri. Appunto, parlando di cappuccio, questo è abbastanza grosso. Ha solamente una tasca esterna. È removibile molto facilmente, davvero in due secondi lo si toglie e in altri due secondi lo si rimette. E devo dire poi che tra cappuccio, la fascia lombare e un po' di parti in giro, si può ridurre a 900 grammi il peso di questo zaino, che invece con tutti questi accessori starebbe sul chilo e 250 grammi. Ma naturalmente la caratteristica principale di questo Ultimate è la sua membrana impermeabile, H-Dry, con 10.000 colonne d'acqua. Devo dire, è una membrana che fa un ottimo lavoro. È stata laminata nella parte interna e davvero, se la andiamo a utilizzare sotto una nevicata, sotto l'acqua e via dicendo, fa un egregio lavoro di isolamento. Poi vediamo naturalmente per chi ha più senso acquistare questo tipo di zaino, ma a livello di impermeabilità, devo dire che davvero qualsiasi cosa mettiamo all'interno non si andrà mai e mai a bagnare. Poi la membrana è presente sia sulla tasca principale che nella tasca del cappuccio. Parlando poi di materiali, questo Ultimate è realizzato con un nylon ripstop in cordura, devo dire un materiale praticamente quasi indistruttibile. Io l'ho strusciato a destra e a sinistra contro le rocce, ha dei graffi perché comunque un po' il materiale va comunque a graffiarsi, ma non si rompe. Devo dire che come materiale è veramente eccezionale se poi dovessimo utilizzarlo per fare dei sentieri o comunque delle scalate particolarmente dure. Arriviamo dunque alle conclusioni per questo ferrino Ultimate, iniziando dal prezzo. Viene venduto da ferrino a 300 euro, online lo si trova sui 230-240 euro. Ve lo consiglio, assolutamente sì, perché è uno zaino veramente fenomenale, con degli ottimi materiali, quello che secondo me è da prendere in considerazione è quanto ha senso acquistarlo. Secondo me ha senso acquistare questo tipo di zaino se siete degli escursionisti, degli alpinisti che vanno in montagna, magari anche per lavoro, e ci devono andare sempre, in qualsiasi condizione. Alpinisti che magari partono anche per andare a fare dei trekking dall'altra parte del mondo e quindi se piove siamo costretti a prenderci l'acqua, ma se siete quel tipo di escursionista, di alpinista che magari esce la domenica, si fa anche i suoi bei giri, ma se vede che mette pioggia e resta a casa, questo tipo di zaino secondo me non ha particolarmente senso. Davvero ha il suo senso acquistarlo se andate talmente tante volte in montagna che prendete molto spesso l'acqua e allora uno zaino con la membrana impermeabile vi può garantire di avere sempre la roba asciutta e di poter tornare a casa in sicurezza. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato l'esauriente e sostivo anche per questa recensione, vi ringrazio la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!